La prof quando ci ha presentato appunto questo progetto diciamo che non è stata una cosa individuale piuttosto una cosa di gruppo infatti anche l'idea nel realizzarlo è stato puntato sì su un significato preciso però poi ognuno anche realizzandolo siamo stati in tanti quindi diciamo che ognuno ha poi buttato lì un significato diverso ne ha riconosciuto diversi significati anche magari un qualcosa che magari nel progetto non era stato così pensato poi magari è uscito fuori quindi diciamo che è stato poi un'opinione da parte di tutti questo muro che crolla che portando via con sé tutto quello che riguarda la guerra che poi non è soltanto quella che combattiamo solitamente con i fucili ma è anche guerra tra persone tra colori di pelle alla fine non è solo uno il concetto di guerra e quindi che questo muro che crolla portando via tutte queste cose la guerra sì siamo orgogliosi sono orgogliosa di essere qua e partecipare a questo momento ma sono orgogliosa anche di come hanno lavorato i ragazzi si parla di una seconda non di una quinta hanno lavorato in gruppo in sintonia confrontandosi gli uni con gli altri e non c'è mai stato nessun astio né niente sempre d'accordo nell'operare e nel portare poi a termine il progetto sono stati bravi grazie grazie